Buongiorno a tutti, qui Arduino Schenato da Yardforex.com e come ogni sabato andiamo a vedere quella che può essere una interessante view dedicata a una delle coppie valutari più importanti, se no la più importante, ovvero l'euro sul dollaro americano. Prima però di partire vi chiedo sempre di lasciare un mi piace al video se il video poi vi è piaciuto e magari vi può supportare nella vostra operatività la settimana prossima ed iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti. Partiamo quindi con la view che ho per l'euro dollaro o comunque andare a fare una analisi molto oggettiva di quelle che sono le dinamiche dei prezzi, esclusivamente le dinamiche dei prezzi, lasciandoci completamente fuori tutto quello che riguarda dati, notizie, quello che è successo questa settimana da un punto di vista di quello che abbiamo sentito, quello che anche se non vogliamo magari ci è arrivato. Quindi guardiamo esclusivamente i prezzi. Allora che cosa è successo questa settimana? Questa settimana sono andati a ruba i dollari, comprati a mani basse su tutti quanti i cambi valutari e euro dollaro ovviamente come si può notare, questo è un grafico settimanale, è assolutamente andato praticamente a farsi un giretto verso il basso, come si può notare da questa settimana. Quindi un bel giretto, una grande volatilità, un movimento che non si vedeva sull'euro dollaro a livello short veramente da molto tempo. Probabilmente un ribasso del genere lo si può vedere in questa parte qui del grafico, quindi praticamente a ottobre novembre del 2020, qualche mese fa con queste due settimane molto molto negative in questa tendenza short che poi sono state riprese e il mercato ha continuato a salire. Siccome io sono un grande trader per quanto riguarda l'euro dollaro, cioè lo trado molto, è uno degli strumenti se non lo strumento che trado di più e quindi lo conosco un po' e quello che voglio dirvi è non lasciamoci troppo abbagliare da movimenti così forti ma cerchiamo di capirli. Magari sono anche movimenti che possono avere una loro continuazione, però stiamo a vedere, cerchiamo di capire. Allora io cerco di guardare un po' la dinamica. La dinamica è ancora nel medio periodo una dinamica bullish, ricordiamo che stiamo in questo momento con una chiusura in area 18,60, 18,70 ma fossimo anche 1,18 voglio dire stiamo ancora quindi al di sopra di livelli importanti di prezzo che diciamo vedono l'euro sicuramente come quota abbastanza normale, cioè se noi prendiamo un mensile, quindi guardiamo negli ultimi 10 anni, 6-7 anni dove era l'euro dollaro, guardate abbiamo una parte alta che era appunto quota 1,25, una parte alta 1,05. Quindi diciamo che se prendiamo una parte un po' intermedia della situazione diciamo che la zona tra 1,16, 1,18, 1,15 è una zona abbastanza intermedia degli ultimi 6-7 anni. Ma quello che io adesso voglio andare a vedere è proprio l'ultima parte del grafico, cercare di capire che cosa sta avvenendo. Allora questo grande sell off in effetti è andato a violare alcuni supporti tecnici statici molto molto importanti. Se vado a prendere tutta la fase di rialzo che c'è stata qui, aspettate che la disegno meglio, quindi prendo il ritracciamento, lo porto qui e lo vado anche un attimo a modificare e voglio togliere alcune cose che adesso non servono e vado a prendere questo e gli metto anche l'ultimo di ritracciamenti di Fibonacci che viene usato nell'ottica di ritracciamenti sui prezzi è appunto, non salvo le impostazioni perché non mi interessa, è appunto, eccolo qui, è 61,8 e 78,6 come voi saprete, se conoscete un po' Fibonacci, i due ritracciamenti più profondi di Fibonacci, beh il 61,8 che è sicuramente il più importante come numero di ritracciamento, ma abbiamo anche il 78,6 importante, magari poco conosciuto ma altro livello importante, quindi abbiamo comunque questa zona, la zona che passa tra 1,19, numero tondo, ex resistenza tecnica, ex supporto e la zona diciamo 1,18, 1,18 e 25 che passa per questo livello che potrebbero diventare almeno nel breve dei punti di sostegno importante per quanto riguarda l'euro, poi se ci mettiamo anche, cerchiamo di capire che tipo di dinamica sta avvenendo prendendo il minimo più basso di questa base, di questo pavimento che ha portato poi a questo doppio minimo higher close che ha fatto il rally, fatto fare il rally poi nei prezzi dell'euro e prendiamo anche una dinamica sulle chiusure, quindi prendiamo la chiusura di questo e noteremo che anche qui passiamo circa per 1,18, quindi 1,18 e 25, 1,19, 1,18, queste zone qui sono zone importantissime che potrebbero prima di un movimento anche addirittura più repentino verso proprio i livelli di minimo e quindi creare un classico trading range, perché poi comunque abbiamo tutti i livelli di sostegno importanti, di supporto importante, abbiamo queste zone, quindi io questa settimana non starei solamente a guardare una barra, c'è stata tanta volatilità, il mercato ha rotto tutto, tutti i dollari sono comprati a mani bassi su tutte le principali valute, l'oro crolla, allora andiamo assolutamente a metterci per forza in una tendenza di breve, sì è una tendenza di breve ma nel medio periodo, quindi grafico settimanale alla mano, la fotografia qual è ancora? Guardatelo, si nota un po' la dinamica, è un movimento dove lui ha fatto un classico movimento 1,2, 2,3, 3,4 e adesso dove sta andando? Stiamo andando proprio su queste aree, queste aree che potrebbero diventare delle aree per poi riportare sui prezzi, che non voglio dire che debbano andare a farsi nuovi massi, però nell'ottica di trading, visto che comunque avete visto praticamente praticamente quasi una volta a settimana, parliamo dell'euro dollaro o di copie di valute comunque correlate, ho parlato di euro yen un po' di settimane fa, ma comunque ce ne saranno, vedete come questo euro dollaro a mio avviso su queste aree o poco più sotto i livelli attuali, quindi dico 1,18 per dire magari 1,18,20 anche quindi la zona 1,18, è una zona sicura, già anche dove siamo ora, rottura di questo 61,8 va bene ma chi dice che questa settimana non faccia un minimo e riporti i prezzi con una settimana verde, bella tonica su, cioè ci possono essere i presupposti, quindi quello che io vorrei farvi passare non prendiamo tutto quello che vediamo nel brevissimo e lo facciamo diventare adesso, visto che vogliamo seguire la tendenza, ci mettiamo tutti short, nel senso che questa cosa va bene seguire il trend, ma seguire il trend della grande figura e a mio avviso questo sell off diciamo che è stato, tiro via qui, è stato abbastanza pesante sicuramente, ma al momento rimaniamo su dei livelli importanti, tra l'altro guardiamo anche un po' cosa era successo proprio come dicevamo prima a settembre e a ottobre, a fine settembre e a ottobre, prendiamo proprio la settimana di vendite che c'è stata, prendiamo un, vediamo se lo trovo il righellino, eccolo qua, guardiamo qua, il righello qua dice meno 2,19 qui, poi abbiamo, qui abbiamo fatto un altro meno, vediamo da massimo a minimo, meno 1,86, 2,19, 1,86 di movimento percentuale, questa settimana c'è stato un 2,47, cioè stiamo comunque, seppur bello intenso, meno 2,19, meno 1,86, meno 2,47 in una situazione che era già avvenuta sui livelli di massimi, quando c'erano stati questi massimi arrotondati, i prezzi avevano votato giù, in realtà avevano votato giù due volte, per ben due volte, questa volta cosa è successo? massimi arrotondati anche qui, tra l'altro su dei livelli, qui eravamo a 1,19, quindi anche come livello importante, qui eravamo a 1,22,40, ma i movimenti diciamo che sono abbastanza simili, se poi addirittura prendiamo tutta la parte della gamba, quindi prendiamo da massimo a minimo e andiamo anche qui a vedere che tipo di movimento percentuale ha fatto, quindi questo, 3,32, ci accorgeremo che, guardate un po', siamo a 3,42, voglio dire, stiamo praticamente ad un ritracciamento che potrebbe essere arrivato a un punto di capolinea, almeno nel breve, quindi aspettarsi anche un rimbalzo di prezzi che, ripeto, non significa un ritorno per forza di euro-dollaro a 1,22,40, però io nell'ottica di breve, se devo farci delle operazioni, ovviamente devo cercare di capire la view, quindi la mia view vuole essere, diciamo, costruttiva e di supporto nell'ottica di qualche giorno, da qui almeno alla prossima settimana, quindi questo è quello che riguarda l'euro e se andiamo a prendere un daily, eccolo qui, quindi tutta la dinamica che si è venuta a creare è una dinamica di sell-off molto intenso, che è arrivata a testare questi minimi perfettamente, 1,18,45, che potrebbe avere anche un ulteriore movimento a minimi arrotondati e che potrebbe riportare i prezzi anche facilmente a 1,20, 1,20,50, l'euro-dollaro sapete che è abbastanza tranquillamente fattibile, che lo facciano, fa dei movimenti abbastanza repentini. Questa mossa verticale, insomma, io al momento non per il tipo di dinamica di medio termine che si sta venendo a creare, vedete, la giudicherei proprio come una dinamica, per carità, di forte sell-off, ma non mi metterei adesso a pensare solamente a dei corti, ecco questo voglio dire, quindi a delle opposizioni di short euro, long dollar, per questo sharp sell-off, questo violento sell-off di mercato. Questo è quello che volevo mostrarvi, quello su cui volevo farvi riflettere, perché mi sembra giusto, visto che molti, tra l'altro ho ricevuto anche qualche mail che mi chiedeva la mia view per quanto riguarda l'euro-dollaro, qualcuno che mi segue, che mi diceva, ma qua è cambiato adesso il mercato? Vi ricordate cosa vi dicevo anche in svariati video precedenti da ottobre, no da ottobre, forse da gennaio, febbraio, quando vi dissi, forse sull'euro-dollaro non c'è più quella tendenza forte short, long, ma ci saranno da seguire gli swing che si verranno a creare tra weekly e daily e prendere di qua e di là per andare a, nel breve termine, a prendere dei movimenti sia long che short, quindi abbiamo tutta questa zona di tra 1,18 e 1,19, ripeto per riassumere che è molto importante e può riportare i prezzi su. In realtà poi abbiamo anche dei supporti sotto, 1,16, però adesso è presto per chiamare quelli. Io sinceramente, vista la verticalità del movimento short e visto tutto quello che abbiamo detto, da dove arriviamo, quindi la dinamica che ci accompagna nell'euro-dollaro negli ultimi tempi, a mio avviso la zona, ripeto, e quindi la segniamo qui, la zona che passa tra 1,19 e 1,18, eccola qua, me la segno in verde, è la zona chiave per possibili ritorni dei compratori, anche in ottica di brevissimo, quindi non per forza delle inversioni, ma che potrebbero far tornare i prezzi su nel breve termine. Va bene? Bene, allora a questo punto io vi saluto, spero appunto che il video vi sia piaciuto, lasciate come vi ho chiesto prima un like se il video appunto vi è servito e iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Io a questo punto vi saluto, vi auguro un buon sabato, una buona domenica e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!